Il paddock è andato vicino al motorhome del McLaren ed ha avvicinato Norbert Haug. Sandro? E siamo con Norbert Haug, gli chiediamo le sue considerazioni dopo questa corsa. Quali sono le considerazioni dopo questa corsa, Norbert Haug? Sì, non eravamo abbastanza buoni, Mika ha perduto due paesi all'inizio e si è giocato in traffico. Sì, sicuramente ha avuto una velocità, una velocità, ma finalmente è sul podio, che è bene. Abbiamo avuto un problema in David's car, abbiamo ancora bisogno di investigare, la temperatura si è giocato e poi la temperatura si è giocata e così è stato. Ok, grazie a Norbert Haug, dice ovviamente la terza posizione per Mika Hachin è ottima, lui ha perso qualche posto all'inizio perché è rimasto invischiato nel traffico e dunque questa ha condizionato la corsa. Stiamo verificando quello che è successo sulla vettura di David Coulthard, anche se sappiamo che si è trattato di problemi al motore. Questo ovviamente lo aggiungiamo noi e dunque guardiamo avanti, questa è la considerazione abbastanza sintetica di Norbert Haug.